Al via la seconda edizione del Matera Fiction, il festival dedicato alla serialità televisiva animerà la Città dei Sassi per cinque giorni, al Teatro Guerrieri la Masterclass con regista Abel Ferrara e Asia Argento. Tra gli altri ospiti Rocco Papaleo, Massimo Boldi, Andrea Roncato e venerdì la lezione di Emir Custuriza, 40 anni dal film Underground, Ninetto Davoli per i 60 anni del Vangelo II Matteo e Gianmarco Tognazzi. In programma anche approfondimenti sul mondo internazionale della fiction con tanti addetti e lavori. Nella giornata inaugurale all'Auditorium Gervasio il concerto dell'Orchestra della Magna Grecia. Tra i progetti futuri c'è un film American Nails con Asia Argento e Willem Dafoe che inizieremo a girare a Bari a settembre. Per quanto riguarda Matera amo questa città, ci sono stato altre volte, è una città magica. Ho tanti amici in Basilicata ma anche nel sud Italia. Posso dire di sentirmi molto legato a questi posti. Noi collaboriamo da tanti anni quindi è un'idea nata su un luogo e da là poi tanti pensieri e siamo arrivati, è arrivato a Fedra e ci abbiamo lavorato parecchio. Questo mestiere ha il grande privilegio di poterti cambiare, trasformare e poi poter tornare, aggiungere forse delle parti a te stessa, capire delle parti di te attraverso un altro, un personaggio. E approfondire chi sei perché proprio il linguaggio della serialità si può esplorare meglio un personaggio che in 90 minuti. Come fossero tanti film da 49, 50, ora non so quanto durano, però si dà più spazio ai personaggi, ai dialoghi, un romanzo come la storia non si sarebbe mai potuto fare al cinema infatti.